Nella notte tra lunedì e martedì i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania hanno sorpreso e arrestato tre persone colte in flagranza di reato per furto in abitazione a Casalvelino. Si tratta di due donne, rispettivamente di 50 e 47 anni, e un ragazzo di 20 anni, tutti con precedenti penali. I militari in giro di perlustrazione hanno assistito personalmente a tutta la vicenda. I tre ladri, dopo aver forzato le finestre del piano terra di una villetta estiva in località Foce, sono entrati nella casa, hanno rovistato in tutti i mobili ed hanno asportato oggetti vari trasportandoli in alcune borse. All'uscita dell'abitazione li attendevano già le volanti dei carabinieri. La posizione del più giovane, l'unico uomo, si è aggravata dopo che i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e vi hanno scoperto una piantagione segreta di marihuana, con un sofisticato impianto di illuminazione, riscaldamento e di irrigazione che garantiva una veloce e sicura crescita delle piante. L'erba era piantata all'interno di grosse fioriere, create con mattoni e riempite di terra. Sulle pareti della stanza, fogli di carta argentate per far filtrare maggiormente la luce irrogata da lampade alogene. 50 le piante di marihuana sequestrate. Le due donne sono state arrestate e trasferite al carcere di Forni, dove dovranno rispondere del reato di furto in abitazione. Il ragazzo invece è stato trasferito al carcere di Vallo della Lucania e per lui le accuse sono di furto in abitazione e produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.